Pronto mister Conte? Sette E' agghiacciato E' tutto agghiacciato Si è agghiacciato tutto Il campo è agghiacciato Io sono agghiacciato Mister su dai La Juve è agghiacciata La vita è agghiacciata E' tutto agghiacciato Mister l'ho presa malissimo Mister dai domenica c'è il campionato C'è il Sassuolo Bella merda Mister la sentiamo proprio giù di solito I suoi toni sono sempre accesi Benvenuti all'inferno ci avevano detto Zero gradi ci stavano Ma vaffanculo A Istanbul ci sta la media di 45 gradi ci sta la media Arriviamo noi in nevica Questo è un complotto per le buone Complotto non credo però in effetti il campo Era impraticabile l'ha detto anche Mancini Tra l'altro lei parlava con il delegato UEFA E diceva che insomma la partita era dangerous Era pericolosa Mister Si la partita stava dangerous E gli dicevo sta dangerous Ma come fai a giocare che sta dangerous Si ma se gli diceva così non so se ci faccia capire Cosa ha detto il delegato proprio Il delegato parlava inglese E dicevo sta dangerous Lui viene verso di me l'inglese fa cont Cos'è cont Come cont Cont in inglese Ma no Non diventa cont in inglese Do you think the partit vuoi giocare Partit 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 vuoi giocare Partit che inglese Ho detto no no Non voglio giocare questa partita No no ma perché No 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 non voglio giocare Poi sto qua ha iniziato Too cold Too cold Sì cold Freddo Too cold Che cazzo è rincoglionito Che cazzo è rincoglionito Che cazzo è rincoglionito Ma che cazzo fa meno due Cold è freddo Cold è freddo Poi sono andato in confusione Qua è partito tutto Do the play The game Te chiedo C'è tempo Ma che non è inglese Ci stava un casino Ci stava Io e Marotta Condizionario Ma che cazzo sta dicendo questo Poi che sta dicendo Io cercare condizionario Ho un casino Guarda Poi ci stava un casino totale Ci stava Immaginiamo Ci siamo portati dietro l'apo La dirigenza Ha visto il Campobianco Ho detto Raga ci penso io Aspiro tutto io No no Non faccia questa battuta Parotto che mi diceva Antonio qua non nevica mica Qua non nevica Guarda Diceva non nevica Beppe ma dove cazzo stai guardando Sta nevicando di brutto Siamo andati in confusione generale Sì ma io vorrei sapere Perché si è giocata quindi Nella confusione generale Che insomma Siamo stati sconfitti dall'inglese Noi insomma L'ignoranza Non uccide Ma sconfiggere Siamo andati in casino con l'inglese E allora ha delegato Ha parlato con il calciatore Ah calciatore E ha beccato Giovinco Proprio Sebastiano Giovinco Dato a parlare gli ha detto Che cosa è successo? Giovinco Hai voglia di giocare con la neve? Mai l'avesse detto Questo è impazzito Pumazzi di neve Voglio giocare No no Assolutamente sì Non è un bambino E allora ha detto si gioca Lui vi fa i calciatori Vogliono giocare Giochiamo Mi sembra non giustifica il fatto Che il campo fosse ridotto così male Ecco appunto Ma arriviamo a questo punto Che tra l'altro Avete visto che Metà campo dove attaccava la Juventus Guarda caso Era danneggiata È vero Questa cosa è vera Sebastiano Giovinco Si è messo a fare i pupazzi di neve Esclusivamente da quella parte Ma no E lui che ha rovinato il campo Pure dalla parte sbagliata Un pupazzo di neve non rovina così il campo Si è messo a fare il trattore pure Era lì con il trattore Era peppeno Nooo Scavava le buche come i cani Era impazzito Era scatenato E lui ha detto Giovinco fai dall'altra metà campo almeno Vai che cavolo hai combinato E adesso cosa fa con Giovinco? Adesso lo metterò in punizione Che devo fare Li ritiro la playstation per un mese intero Buonasera Buonasera a tutti Cilini cosa c'è Grazie Grazie Partita incredibile Piena di buchi selvaggi Fischi furibonde Quello è vero Eccezionale Sciamolata morbida Non va Chi? Cosa? Ma è pronta? Come sempre La moviola del nostro È Graziano Cesari Ciao Graziano Grazie Sandro Eh 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 Ciao Cesari Si è discusso tantissimo sul fatto che il campo fosse praticabile o meno Si E noi abbiamo a disposizione delle immagini esclusive raccolte proprio da Medias Ah immagini esclusive Eh 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 Ma cos'è? Che immagini sono? Questi fantozzi Sbagliate immagini Cesari Ecco vedete le squadre che fanno loro ingresso in campo Sbagliato Sbagliato Da trasferta Di colore azzurro Ma cos'è che uomo? Ma cosa sta dicendo? In quadrato lo vedete l'arbitro della partita Il signor Filini Della sezione di Lecce Che tra l'altro appunto è dello stesso paese dell'allenatore della Juventus Antonio Conte Quindi non vedo come l'allenatore della Juventus Abbia da lamentarsi Ma cosa sta dicendo? Ecco Era il signor Filini che dà via alla partita E il calcio d'inizio viene dato proprio dalla Juventus Che porta subito la palla Vedete? C'è qualche Pozzani Qualche in topo Ma la palla è rimbalza in maniera regolare È regolare Lo vedete? Il rimbalzo è bello Qui c'è una bellissima azione tra l'altro Del giocatore del Galatasaray Snyder Che si muove sulla fascia Lo vedete? Calcio in porta Il rimbalzo è regolare E Buffon qua compie un autentico miracolo Mettendolo in calcio d'angolo Ma poi Succede il fantaccio Lo vedete? Comincia una fita nevicata Il campo si fa pesante Qualche entrata di troppo Ma insomma La partita si mantiene bella Simpatica È regolare Qui giocata È il cadì 1-2 Il gioco è fluido Scorre bene Qui vedete? Felipe Melo Il giocatore del Galatasaray Che si invala proprio sulla fascia incriminata Ma la palla rimbalza bene È regolare È regolare È regolare Qui vedete? Il gioco un po' spezzettato La partita Bucchio salvaggio Mi sia furibonda Eccezionale Che piace più niente È regolare È regolare È vergognoso questo È regolare 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 È regolare